Hai una disabilità temporanea o permanente e vuoi studiare in UNITO? Scopri cosa possiamo fare insieme. Scegliere il corso più adatto a te. UNITO ti supporta e orienta nel conoscere i corsi offerti e nel conoscere i percorsi post laurea con un servizio di consulenza dedicato. Organizzare il tuo ingresso in università UNITO ti invita a incontrarci prima dell'estate per verificare la tua certificazione e per informarti sulle procedure e i tempi delle preiscrizioni, per i test d'ingresso o le pre-immatricolazioni e sugli strumenti e supporti di cui puoi beneficiare. Conoscere le procedure e gli uffici UNITO ti segue nel preparare le pratiche amministrative e nel rapporto con i docenti. Seguire le lezioni e dare gli esami UNITO ti propone la presenza di una persona che ti accompagna da e verso le strutture universitarie di un tutor per seguire le lezioni studiare e preparare gli esami di interpreti LIS e mediatori della comunicazione per non udenti di attrezzature informatiche accessibili o specifiche per alcune disabilità e l'uso di locali per lo studio. Presentare istanze e segnalazioni UNITO ti ascolta prendendo in esame richieste di miglioramento per eliminare barriere culturali e fisiche verso la disabilità. Vuoi studiare in UNITO? Contattaci subito e non aspettare l'inizio dell'anno accademico. Fissa un appuntamento inviandoci una mail a ufficio.disabili.chiocciolaunito.it L'ufficio disabili dell'Università degli Studi di Torino è in via Po31 a Torino.